Buongiorno e buonasera a tutti ragazzi e ragazze, oggi siamo in un nuovo video della serie di Minecraft Vanilla Allora, ho alcune cose da dirvi, alcune novità La prima è che sono morto, ora vi spiegherò anche il perché, ma prima andiamo in caverna Una volta qui ragazzi ho scavato il corridoio centrale per andare a cercare dei diamanti Che tra l'altro ho trovato, quindi ora li andiamo a prendere, uno, no c'è alcuni sono qua infatti Eccoli qua, sono anche un po', sono uno, due, tre, quattro e cinque E non sono neanche gli unici, quindi, anzi no, beh qua sono morto ragazzi Sono morto, stavo raccomando, non mi ricordo qualcosa, forse del ferro Solo che da stupido mi sono messo sopra il ferro e sono caduto nella lava Infatti vedete ho perso tutti i miei livelli, però intanto non diciassette, quindi meglio di niente diciamo Eccoli qua, perfetto, ok cerchiamo di non perderli Uno, due, tre, quattro, ok altri nuovi diamanti, molto bene Allora ragazzi ditemi se volete che andiamo in caverna insieme Solo che a parer mio non è molto bello come episodio andare in caverna Siccome bisogna essere troppo, tanto ormai le cose per la caverna ve l'ho detto nel video Dei dieci consigli e trucchi per andare in miniera Che tra l'altro vi consiglio di andare a vedere Perché sono molto importanti e io li uso sempre Siccome volevo essere un po' più organizzato Ho deciso di creare una specie di grafica Cioè una grafica Per ora le scriverò così molto, molto velocemente Oppure già che ci sono stavolta faccio una grafica Dovrò ancora vedere Per tutti i nostri progetti Per ora sono questi qua, sono pochi Sono quelli che voglio fare sulla montagna, dappertutto diciamo Tra cui delle farm Se non avete ancora visto la farm di mucche Di cui ho fatto il tutorial l'altro giorno Vi invito a vederla Quindi posiamo questi diamanti Potremmo già farci un'armatura però non voglio sprecarli Quindi ok, un'altra cosa è Sono andato da tutti i tre villaggi E li ho recintati Cioè recintati più o meno Con dei blocchi, non neanche con delle fence Giusto per non far venire tutti i zombie Quindi li ho recintati tutti E gli ho messo le torce dentro Così non possono né entrare né spawnare dentro Ho piantato alcune carote Siccome ne avevo un po' Che comunque Come vedete Ah no, le carote erano solo una Invece le patate erano di più Poi un'altra cosa Devo salutare Cristian Pirona E Riccardo Casetta Che mi hanno chiesto sotto nei commenti di salutarli E a te che non sei ancora stato salutato Mi raccomando scrivi nei commenti Che ti saluterò nel prossimo video Allora sono qui vicino alle farm di legno Siccome Mentre ero nel terzo villaggio Dall'altra parte della montagna Ho trovato una Foresta di Quercia scura Infatti vedete qua Che ho Quattro sapling Di quercia scura Siccome sono il minimo Per piantare un albero E infatti oggi Volevo fare una costruzione Finalmente dentro la montagna E volevo farla appunto Di quercia scura Una prima abitazione Diciamo E ci vediamo appena Ho ne ho colto un bel po' Ok ragazzi Credo possono bastare Ho fatto Vabbè Tre stacchi e mezzo di quercia E due stacchi e mezzo di Quercia scura Tanto la quercia non useremo Al massimo dopo Se no ne prendo altre Allora prima cosa che voglio fare Ebbene una pala Nel caso ci servisse per salire su E poi ovviamente Dobbiamo andare a vedere Intanto vediamo Se c'è qualche Arberello Che è sceso No Vabbè Dobbiamo andare a vedere Dove costruire questa casa Allora questa casa Non sarà una casa Cioè normale Nel senso che Sarà Appunto Attaccata A terra A terra Ma bensì Volevo farla Che sporgeva dalla montagna O comunque Che si Collegava dal basso Con qualche trave Diciamo Ora vi faccio Vi farò capire Allora Ecco poi Una delle prime cose Che vorrò fare Tra qualche episodio Sono delle scale Che fanno Che vanno a spirale Per tutta La montagna Così da collegare Molte zone E verrà molto bella Secondo me Ok allora qua Siamo quasi in cima Ecco Devo farla tipo Qua ci starebbe davvero tanto Perché è proprio Ottimo come posto Qui Come quella che voglio fare Io diciamo Quindi tolgo Questi alberi E ci vediamo Appena ho pulito Un po' tutto Cavolo Mi sono portato Delle torce Vabbè Comunque ho finito Più o meno Avevo già un letto Perché mi ero portato Per recintare I vari villaggi Che lasciamo qui Ok Ora studiare Le foglie Comunque volevo farla Abbastanza elevata Quindi prendiamo Il tronco di perciascura Allora Farei una cosa Del genere Saliamo Per Farlo già qua Più o meno Il livello In cui lo faremo Ok Siccome ci sta Come livello Quindi potremmo fare Una Due Tre Quattro Cinque Sì No Anche sei Sette Sei Sette Poi fare Tipo una lì Poi ne farei Un'altra Invece Un po' più là Tipo lì No scherzo Forse uguale Vabbè Comunque Anche un po' più corta Ok Non mi sono portato Una crafting table Ma vabbè La facciamo qui La posso mettere Qui E ci facciamo Un bel po' Di assi E Con questo Mettiamo A posto Tutto qui Ma quasi quasi Vediamo un po' Come ci sta Questo qui No Ho sbagliato ragazzi Troppo chiaro Ditemi nei commenti Se è troppo chiaro Il legno La quercia normale Con Quello di quercia scura Così almeno Potremmo cambiarlo Ok E volevo anche fare Dei tronchi Così Ecco Così Ecco Siccome mi piacciono molto Cioè non molto Diciamo abbastanza E si possono fare anche molte cose Facciamo così 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 E con gli scalini Potremmo fare una cosa Del genere Tipo così E così Dopodiché Potremmo chiuderla qui Ok Facciamo magari Con le slab No possiamo farla Anche con gli scalini Quindi facciamoci Un bel po' Di scalini Che tanto ci serviranno Sicuramente Quindi saliamo sopra E li facciamo Ok Poi prendiamo Altri tronchi Li mettiamo così Secondo me ci potrebbe anche stare E così Vediamo un po' come è venuto Dai neanche troppo male È solo un po' scuro Però Diciamo che il design Della Della casa è così Facciamo anche delle slab Per fare Qualcosa di carino Sul tetto Massimo Non farlo tutto Lo stesso modo Tipo così Ok Peccato che non ho Delle torce Se no Lo mettevo già Andiamo a prendere Il letto E facciamo gli interni Però lo mettiamo a caso Il letto Tanto non ci interessa Molto Poi ovviamente Dobbiamo fare l'entrata Che non l'ho ancora fatta Potremmo farla Tipo di qua Togliamo Tutto questo Ok Potremmo farla di qua Io lo farei sempre Così Qui la lasciamo così Qua mettiamo Altri blocchi E facciamo tipo Una Una finestra Una doppia finestra Magari Così Ok Qualcosa del genere Poi mettiamo anche Magari una porta Che non sarebbe male E qua scaviamo tutto Sul balcone Possiamo fare una cosa Così Magari con una fence Più chiara Che secondo me Vede meglio Ok Tipo così E' più carino Un po' meglio Diciamo Ok ragazzi Sono passato dalla base Per prendere Un'altra legna E Le torce Perché se no Non ci vedete veramente nulla Secondo me Tra L'ombra E il legno Scuro Non ci vedete nulla E vediamo un po' Cosa fare Perché Dentro Non un magazzino Perché il magazzino Lo voglio fare all'interno Della montagna Qualcosa del genere Comunque Passando di qua Mi sono accorto Che non ho Messo Nessun sostegno Terra Infatti Ora prendiamo Un bel po' di scale Vado qua sotto E lo faccio Ok Una cosa del genere Mi piace Perfetto Ok Dobbiamo Illuminare un po' Il posto Almeno l'esterno Poi l'interno Dobbiamo ancora farlo Proviamo Siccome ho portato anche delle lanterne Perché tutto scuro così Poi diventa troppo brutto Quindi Potremmo Fare una cosa così Per esempio È meglio di niente Ok Perfetto Anche qua sono tre Qua magari un po' più pendente Ok È già più carino Qua sotto anche Tipo qui Ok E qua fuori Qualcosa così Ok Carino dai Poi invece qua dentro Per ora mettiamole così O senza caso Ma solo per Fare un po' di luce E volevo fare degli scompartimenti O comunque qualcosa del genere Ok Così Non so ancora bene Cosa ci metterò dentro Però In una di queste qua Magari in quella centrale Vorrò fare un corridoio Che poi Verrà Praticamente Unito a un Cilindro Possiamo fare una cosa così All'interno della montagna Siccome All'interno della montagna C'è proprio un buco E Così da collegare Tutte le strutture O qualcosa del genere Anche con qualche passaggio segreto Magari Cioè in generale Non in questa struttura qui Quindi Qua davanti Possiamo lasciarlo così Oppure Potremmo anche fare Qualcosina qua Magari Un altro terrazzo Non starebbe neanche troppo male Però con Queste qui Che mi piacciono di più Perché sono troppo scure le altre Infatti ora lo cambierò anche di là Ok Così è carino Invece qui potremmo Mettere un cancelletto Che facciamo adesso Proprio al volo Mettiamolo così E qua magari Un'altra slab Perfetto Poi uno ci si butta proprio No Dovrò anche fare una scala Sto pensando anche un'altra cosa Magari Vediamo un po' come viene Tipo questi ultimi scalini Farli Invece di Pietra Così per non fare tutto Monotono Scuro Andiamo un po' Ma Magari facciamo anche qua Eh se ce la faccio Ma pensandoci ora Potrei fare Vabbè Già sguidato Vabbè Potrei fare Qua di pietra Però Non lo so Forse è troppa pietra poi Vabbè Però lasciamo così Togliamo solo questi Facciamo una Pseudo scala Proprio così al volo E possiamo anche farla doppia Come quella lì da Mettere anche un po' di torci qua dietro Se magari spawno dei mob È un po' un casino Mettiamo anche una pleasure plate Facciamo così E Togliamo questo letto Lo volevo fare a rosso Siccome ho portato un papavero Eccolo qua Molto meglio Sta molto meglio con Questo legno Quindi Nel prossimo video vi farò vedere Gli interni Che ho fatto Siccome sono un po' Cettico su queste cose Ok Non è bellissima vista così Ma secondo me Si può ancora migliorare molto Magari con qualche aggiunta Da qualche parte Però Vabbè Per ora Diciamoci basta A me basta Quindi Spero che questo video Vi sia piaciuto Scrivetemi qua sotto Cosa posso migliorare Ovviamente In questa casa Che è molto di base Molto default Però È la prima costruzione All'interno della montagna E Iscrivetevi al mio canale Se volete vedere i prossimi video E da Sino di tutto Ciao All'interno della montagna